La scelta è stata quella di unire le forze insieme al Comune, per la prima volta siamo allineati con il Comune di Teramo, per mettere in campo tutte quelle risorse di cui oggi è dotata la provincia e il Comune per dare risposte immediate per i cittadini, quindi risposte che passino soprattutto per le scuole, per la viabilità, ma anche per il rilancio di tutti quegli edifici che oggi non sono stati riqualificati adeguatamente. Ora quindi la provincia ha scelto di prendere posizione? Sì, ha scelto di prendere una posizione non solo a favore di Gian Guido d'Alberto, ma principalmente per dare a Gian Guido d'Alberto un contributo attraverso le persone candidate che sono motivate, motivate l'hanno fatto liberamente a sostegno di questa lista e che possono dare un contributo professionale, umano, di idee e per velocizzare tutti quei processi che oggi i cittadini naturalmente chiedono perché quando si parla di fondi e di finanziamenti che sono impancialienti rimangono cifre che le persone, i cittadini non comprendono appieno e devono essere tradotte immediatamente in opera. Una lista fatta principalmente di donne e di giovani, di professionisti, di persone che hanno qualifica e qualità eterogenee, molto eterogenee, ma che soprattutto hanno apportato anche nel programma dei punti principali, quelli dell'ospedale, quelli della mobilità, quelli della rigenerazione urbana, hanno portato tante risorse in termini di contributi volontari, di idee, di proposte progettuali che sono oggi il punto principale sul quale un sindaco che si ripresenta per la seconda volta deve basare la propria campagna di lavoro, perché la prima fase è stata quella manutentiva, una fase di ricostruzione anche penalizzata dal Covid, oggi deve pensare al rilancio del territorio verso una prospettiva futura.